La sanità piomba nella campagna elettorale, l'Ulse 7 entra a pieno diritto fra i temi più caldi del momento. Apre le danze il candidato del PD Enrico Letta che mette i puntini sulle I riguardo alle responsabilità della gestione della sanità. Chiediamo alla Regione Veneto una attenzione molto maggiore rispetto ai territori che sono i territori più remoti e più lontani perché il vero guaio di questi tempi è stato ed è veramente la questione dei servizi lontani dai territori e crediamo che questo sia un punto essenziale. Letta presente a Bassano per una visita alla Baxi e in Val Brenta per parlare della viabilità della Val Sugana punta il dito anche sulla volontà politica di chi vede nella sanità prima i bilanci e poi i pazienti proprio quello che molti cittadini contestano ai vertici dell'Ulse 7. Il nostro programma, il nostro progetto è un progetto che riparte dall'esigenza dei fruitori di sanità innanzitutto e quindi dà un investimento unico, netto e chiaro sulla sanità pubblica. Noi vogliamo togliere quel tetto alla spesa del personale sanitario che dal 2004 fu messo da Tremonti all'epoca era messo il tetto alla spesa del personale sanitario meno un per cento ogni anno. Purtroppo era una norma che fu messa che non è stato possibile togliere in tutti questi anni ma con la pandemia si è capito che invece quella norma va tolta. Eppure sui medici di famiglia il PD non le manda a dire che gestisce la sanità della pedemontana dove tante volte abbiamo raccontato i disagi di chi si è trovato senza un dottore o con un medico d'ufficio lontano, troppo lontano per anziani e persone in difficoltà. Ecco la proposta. Un forte incentivo nella medicina di territorio e in particolare nei medici di famiglia che sono stati durante la pandemia, si è visto quanto importanza hanno ma veniamo da una lunga fase nella quale sono stati assolutamente marginalizzati e bistrattati.